La preparazione è importantissima, la costruzione del personaggio, il cercare di non rimanere in superficie e andare a lavorare in profondità nelle emozioni è fondamentale. Detto questo credo sia anche importantissimo, come si dice poi, dimenticare tutto ed essere pronti ad improvvisare perché ci sono anche sette in cui tutto cambia velocemente, in cui è importante anche mettersi in gioco e essere vivi al momento nel presente, quindi è una grande avventura. Nel mio piccolo non posso dare dei grandi insegnamenti, ma nel mio piccolo posso dire appunto che la preparazione è importante, ma è importante anche poi sapersi vivere il momento.